bello a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video io sono maullo 941 e oggi siamo tornati con la serie delle sette i nostri gamberini la sds signora serie delle sette sembra una malattia la sds comunque detto questo ragazzo io prima di partire il video vi ringrazio per i like per i commenti e per il supporto che date a questa serie e niente vi chiedo sempre di essere belli presenti e darmi sempre pari consigli che se potete ragazzoli io sono andato avanti col tempo siamo arrivati di seguirmi sui profili social ovvero instagram e facebook mi trovate come maullo 941 comunque link in descrizione noi noi siamo io sono andato avanti con le giornate siamo arrivati al 28 di giugno si sta per concludere la stagione noi siamo arrivati terzi abbiamo fatto quasi tutti gli obiettivi ovvero tranne ingaggiare un giovane e farlo scherare per cinque partite che purtroppo non ci siamo riusciti forse per una o due partite forse l'altro ci siamo riusciti ingaggiare due giovani meno vent'anni mantenere una striscia di almeno 85 per cento di spettatori successo non diventare niente successo in parte siamo riusciti a fare entrambe le cose e finanzi siamo riusciti a mantenere il budget dei stipendi sotto il 20 per cento io direi ragazzoli allora io direi di portarci tutti i giovani in prima squadra così ce li abbiamo già pronti per la prossima li abbiamo ingaggiati quest'anno e se qualcuno vogliamo andare in prestito lo possiamo anche fare quindi direi promuoviamo il nostro portiere d'agas mckinley il nostro terzino sinistro mitchell il nostro portiere taylor che penso che andrà in prestito il nostro angus emilton il nostro difensore deve diventare fortissimo e il nostro sin davis che è l'altro esterno sinistro che anche lui lo portiamo in prima squadra perfetto così abbiamo tutti i nostri giovani belli pronti già in squadra così l'anno prossimo appena partiamo con la nuova stagione possiamo fare un resoconto chiaro preciso della rosa dalla quale partire per costruire il nostro nuovo obiettivo ovvero quello di salire in championship in championship perché ricordiamo sopra league one c'è la championship e poi dovrebbe esserci la premier league quindi siamo ancora distanti dall'obiettivo raga dall'obiettivo quello bello tosto di arrivare in premier giocare col manchester giocare con liverpool col celsi dico siamo ancora lontani sono lontani ma piano piano riusciremo a fare tutte cose ora qui se sta in bandana tutto ci vediamo appena parte la nuova stagione raga ok ragazzoli ci siamo la nuova stagione è stata caricata e siamo agli inviti agli inviti del torneo pre campionato che ovviamente andiamo accettare perché abbiamo bisogno di soldi come il pane allora abbiamo il primo che si giocherà in turchia 1380 il secondo in danimarca 1450 il terzo in italia 1550 andiamo a prendere per forza questo dell'italia signori miei che tra l'altro ci sono il pisa la cremonese e il cittadella forse il nostro amato venezia si ma signori miei non giocare contro il venezia chissà se capitiamo con loro nel girone con loro vediamo se capiamo col circo venezia raga sarebbe una cosa terribile no 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 il venezia sta nell'altra competizione allora io direi avanziamo al giorno 2 avanziamo al giorno 2 così dovrebbero arrivare gli osservatori e iniziamo un attimino a impostare la situazione raga iniziamo un attimino a impostare la situazione dobbiamo anche sistemare il discorso degli allenamenti ci sono proprio di cose a mi sono indicato a dirvi che sul finale della scorsa stagione verso giugno mentre andava avanti è arrivata un'offerta per brewitt il nostro centrocampista uno dei nostri centrocampisti che io ho accettato l'ho trattato l'ho accettata e abbiamo venduto hanno accettato la trattativa la trattativa andati in porto abbiamo venduto quindi dovremmo avere anche i soldi di brewitt allora abbiamo due aggiornamenti degli osservatori andiamo a vedere gli osservatori che ci hanno portato dall'irlanda abbiamo nel lynch che è brutto come pochi poi abbiamo la la lu like luke domfi domfi mio mamma mia che sei brutto e ronan o'neill peggio del suo fratello via lui non ha portato niente di che vediamo dall'italia cosa arriva signori miei nicola cacciadei nicola cacciadei mi interessa parecchio nicola cacciadei signori miei signori nicola cacciadei me la porto già in squadra adesso ingaggiato daniele rossi daniele rossi no mi dispiace sei un buon prospetto ma non ci serve alessandro mariani alessandro mariani tanta roba signori miei mariani ce lo portiamo subito e matteo ferrari matteo ferrari no 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 niente da fare bella oggi abbiamo fatto un obiettivo perfetto coppia nazionale informazioni importanti sul mercato va bene siamo ancora il giorno 1 no siamo al giorno 2 ma il mercato è aperto no ancora no signori miei il mercato forse ancora non è aperto ora fermi tutti fermati fermati giorno 4 va bene stiamo in tempo per fare qualsiasi cosa c'è un aumento di budget va bene questo ci interessa relativamente la rosa ora andiamo a vedere vediamo quanti soldini abbiamo raga abbiamo 3 milioni parca la pupazza eh sono soldini sono tanti soldi signori miei sono tanti soldi sono tanti soldi si si confermiamo questo budget allora dobbiamo fare tante cose prima cosa sistemare gli allenamenti fondamentale fondamentale passaggio numero 1 sistemiamo gli allenamenti allora di sicuro dobbiamo far allenare il nostro portiere perché voglio un portiere bomba signori miei un portiere bomba che era lui mckinley mckinley deve diventare il nostro portiere bomba perfetto dopo di che dobbiamo allenare emilton che deve diventare il mio difensore bomba dove emilton emilton sia ancora un 52 emilton suggerito scenari difensivi intercettazione difensione perfetto devi salire tantissimo poi voglio il centrocampo che deve essere anche lui a bomba abbiamo raid che deve fare molto lui anche velocità scatto controllo palla se no dribbling agilità se no posizionata conosco no va bene andiamo qua velocità scatto agilità controllo palla dribbling vai così poi abbiamo quell'altro giovane interessante mariani 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 non sembra malaccia mariani se noi potrebbe anche crescere bene ma è troppo presto casa dei un esterno destro casa dei e interessante allora rimettere intanto nicholson per forza per forza nicholson deve continuare a migliorare velocità scatto controllo palla attività e dribbling quello che è e poi metterei attaccanti noi abbiamo il nostro derocco dei poveri che però non mi sembra questo che era anche non mi sembra questo che era anche il raga boh proviamo a allenare il derocco dei poveri vediamo se ci da delle soddisfazioni vediamo se ci da delle soddisfazioni il derocco dei poveri ok andiamo con gli allenamenti così il nostro partito diventa già un 66 e anche nicholson esterno sinistro diventa un 64 buono 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 così ok gli allenamenti li abbiamo fatti dopodiché andiamo in rosa signori miei andiamo in rosa e sistemi allora allora il mio blu io direi di tenercelo ancora un'altra stagione mckilly diventa il nostro portiere titolare a breve taylor e su 63 17 anni e scozzese gli direi di mandarlo in prestito raga si va a fare le ossa in un'altra parte sulla sinistra abbiamo park 34 anni in 62 mitchell che è un 63 e craston che un 63 quindi direi che park lo ringraziamo per la stagione che ci ha fatto l'anno scorso ma lo andiamo a vendere ancora che lo possiamo vendere in difesa abbiamo bulu 60 satton 61 emilton 52 old 59 quindi la nostra coppia d'attacco sarà fatta da satton e bulu con emilton che deve cercare di recuperare più punti possibili lì siamo messi bene esterni sinistra abbiamo raja 62 e braxton 57 inguardabile ma ci dobbiamo tenere per ora sulla sinistra abbiamo tonev nicolson davis e otes allora allora io direi di tenerci nicolson e tonev ragazzoni e mandare sia davis che lo mandiamo in prestito davis e anche io ho testo io ho testo lo venderei proprio raga un 58 vendiamo otes a generale abbiamo wilding di augurara tutte che in prestito lewis e raid perfetto la città come siamo messi bene raga sulla destra abbiamo delle eo sullivan e siamo messi anche lì bene attacca abbiamo johnson stat com l'age slow e haward 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 già è sul mercato riusciamo a vendere haward sarebbe tanta rosa considerando che johnson lo stiamo provando ad allenare ok abbiamo messo sul mercato quelli che ci serveva liberare vediamo se riusciamo se c'è qualche svincolato raga qualche regen che magari potrebbe essere interessante vediamo 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 allora ci servono qualche cosa di interessante raga 27 anni no ovviamente devono avere dell'età 18 anni chris morris chris morris mio non sei proprio brutto aggiungiamo la lista mercato chris morris non è niente male 18 anni potrebbe essere un buon prospetto egiziano ma mad morsi no no morsi no morsi no vediamo se troviamo qualcun altro interessante questo che c'è un nome impronunciabile no no anche perché centro campo siamo messi bene vediamo se c'è qualche altro no niente solo per curiosità mi vado a prendere questo storico me lo metto nella lista vediamo se è qualcosa di interessante detto questo ragazzuoli io vi ringrazio ha guardato questo video vi ringrazio per il like per i commenti per i suggerimenti e per il supporto che date qui ai nostri gamberetti che si prospettano verso league one signori mi vedo questo io vi chiudo qui il video e noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video nei prossimi giorni bella raga ciao